Rappigoni, perché questa manifestazione e questo incontro con il prefetto? Questa manifestazione sostanzialmente è un focus che facciamo sulla questione degli appalti e delle ditte interne alla Dissemproppo perché la multinazionale nelle tante provocazioni che ha fatto in queste ore direttamente a Metal Meccanico l'ha fatta una anche all'impresa dell'Indotto facendo transitare per le vie informali una comunicazione per cui da subito si doveva arrivare a un meno 20% sulle commesse in essere con un ultimatum che scadeva ieri mattina rispetto alla decisione delle imprese e con la comunicazione che di fronte a una negazione di questo meno 20% sarebbero uscite le ditte dal sito di Viale Bin per noi questo è un fatto gravissimo intanto perché era materia di contrattazione e questo è successo mentre c'era al Ministero la discussione generale sulla questione di Dissemproppo è irresponsabile perché tra le altre cose aggrava la questione dei livelli occupazionali ma soprattutto apre una prospettiva di illegalità all'interno del sito perché con quel tipo di ripasso significa che potranno lavorare dentro il sito di Viale Bin se venisse ovviamente confermata questa indiscrezione sono le aziende che non si possono permettere neanche di pagare il costo del lavoro per questo motivo saranno soltanto aziende illegali noi abbiamo quindi posto un problema che riguarda oltre all'avvertenza generale grazie